Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del Tg6 in apertura alla pagina dedicata al Covid per fare il punto sulla pandemia a Chieti e provincia. Questa mattina il prefetto Armando Forgione ha incontrato il direttore generale dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Nessun allarmismo ma massima raccomandazione ai sindaci dei centri della provincia di Chieti di evitare assembramenti anche nei luoghi all'aperto. Così il prefetto di Chieti Armando Forgione questa mattina al termine dell'incontro avuto con il direttore generale dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, che ha raccomandato di far vaccinare i ragazzi delle scuole ad agosto. Vorrei dare subito una sicurezza. Di zona già si sta parlando ma non c'è nessuna decisione. Nella provincia di Chieti, devo dire, nonostante noi siamo sempre un po' addosso a tutti i sindaci perché vogliamo che facciano sempre di più di quello che già tantissimo stanno già facendo. In realtà le cose non stanno andando male. Ci sono alcune zone della provincia che sono un po' come dire con alcune fasce di età che preoccupano per la percentuale vaccinale. Abbiamo messo in sicurezza, lo dico con estrema franchezza, le fasce che vanno dai 60 anni in su e quindi qui su queste diverse fasce siamo un po' più tranquilli. Ma in realtà siamo un po' addosso ai sindaci per le fasce un po' più giovani perché proprio queste cose sono quelle che si stanno manifestando in questi giorni poi sarà più preciso di me il direttore generale, sono quelle che più preoccupano per i contagi. Noi sappiamo bene che ci sono delle regole poste già prima dell'inizio della pandemia che sono regole che vanno rispettate, ancora più in questo momento. Quindi le prescrizioni del distanziamento dove possibile e dell'utilizzo della mascherina vanno rispettate. Le vaccinazioni stanno procedendo bene. Ieri abbiamo vaccinato 5.000 persone che è un buon tasso vaccinale. Stiamo anticipando dove possibile seconde dosi perché come tutti ormai hanno appreso la variante Delta uno immunizzato solo con la seconda dose e questo chiaramente è anche una preoccupazione specialmente per i giovani. Partendo dalla scuola noi raccomandiamo di vaccinare all'inizio di agosto i ragazzi perché solo così quando cominciano la scuola avranno fatto la seconda dose. Chiaramente anche per gli altri giovani 20-30 anni la raccomandazione è vaccinarsi adesso. Proseguiamo con la cronaca. Nel fine settimana i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di un cittadino italiano residente a Montesilvano rinvenendo complessivamente circa 4 kg di marijuana contenuta in buste elettrosaldate nonché in vasetti e bustine pronti per la vendita e circa 25 grammi di hashish. Il destinatario dello stupefacente è stato denunciato a piede libero in attesa delle conseguenti determinazioni della competente autorità giudiziaria. La droga sarebbe stata immessa in commercio sul mercato locale consentendo, secondo gli investigatori, di ricavarne circa 40 mila euro. A conferma dei massimi livelli di attenzione le fiamme gialle del reparto provinciale di Pescara nell'ultimo periodo hanno effettuato 60 interventi pervenendo alla segnalazione di 72 soggetti di cui 9 tratti in arresto in flagranza di reato con il sequestro di oltre 15 kg di sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, incidente nella notte, un infermiere di 27 anni di Agnone in provincia di Sernia è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Casoli nel Chietino. Il giovane Mario Scampamorte si stava recando al lavoro nella residenza per anziani di Casoli quando con la moto è andato a scontrarsi contro un'auto. Un ragazzo energico, attivo, sorridente alla vita, così lo ricorda il sindaco di Agnone Daniele Esaia. Un infermiere che ha messo a disposizione dei malati Covid tutta la sua professionalità e del suo amore. Il dolore che l'intera comunità prova in questo momento immenso, inspiegabile. Sono sicuro però, ha continuato il sindaco, che le cure e le disponibilità mostrate da Mario nei confronti dei suoi familiari, dei suoi affetti e dei suoi pazienti resteranno come una traccia indelebile, un segno per sempre tangibile del suo impegno per il prossimo, così lo ha ricordato il sindaco di Agnone. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, la pagina della politica. No, all'aumento delle bollette, Rifondazione Comunista lancia la campagna per bloccare i tanto temuti rincari. Parte la campagna nazionale di Rifondazione Comunista per dire no all'aumento delle bollette, una campagna che ovviamente coinvolge anche la nostra regione di Sante. Noi chiediamo al Parlamento e al governo d'Aghi di bloccare questo vergognoso aumento delle bollette. Parliamo del 9% in più sulla luce e del 15% in più sul gas. Ci avevamo detto che con le privatizzazioni e le liberalizzazioni sarebbe stato tutto meglio per i cittadini, diminuiti i costi. Invece i cittadini continuano ad essere tartassati mentre vengono garantiti per legge i profitti alle multinazionali dell'energia. È una vergogna e il governo Draghi batta un colpo. Non si capisce perché si possano tartassare i cittadini e non far pagare i milionari. Parliamo di tante utenze che coinvolgono anche e soprattutto le fasce più deboli della cittadinanza. Tutti parlano di crisi sociale, economica aggravata dal Covid, ma invece di tutelare quelli più deboli che in questo momento sta perdendo il lavoro, chi perde la casa, voglio solo ricordare che dal 1 luglio sono stati liberalizzati gli sfratti. C'è nuovamente la libertà di licenziare in questo paese perché è stato tolto il blocco dei licenziamenti e adesso arriva anche l'aumento delle bollette. È una vera vergogna. Il nucleo operativo della protezione civile d'Italia Cozzo dal 5 luglio è a fianco della centrale operativa regionale per intervenire ed essere di supporto ai vigili del fuoco in caso di incendio boschivo nella stagione in cui si verifica il maggior numero di queste tragedie ambientali. Siamo entrati nella stagione estiva, temperature in aumento e di conseguenza siamo ancora a parlare dell'emergenza incendi, un'emergenza particolarmente sentita da questo territorio. Dal 5 luglio siamo attivati proprio per la sorveglianza e per lo spegnimento di incendio boschivi dalla sala operativa unificata permanente dell'Aquila, la SOP regionale. Monitoriamo il territorio quotidianamente tutti i giorni, controlliamo Tagliacozzo, le relative frazioni ma ci spingiamo anche oltre a vedere tutta la zona dei comuni, anche limitrofi a Tagliacozzo stesso. Siamo operativi e purtroppo dobbiamo registrare che dei casi di incendio già ne abbiamo avuti. Abbiamo avuti due incendi su Avezzano un paio di giorni fa, abbastanza impegnativi, siamo andati in supporto ai vigili del fuoco di Avezzano, purtroppo questa è una piaga che tutti gli anni si ripete, le temperature sono alte e dunque lanciamo sempre l'appello di avere massima accortezza a lasciare fuochi, le cicche delle sigarette, anche la macchina parcheggiata sull'erba secca può provocare gli incendi boschivi. Nello specifico cosa prevede il protocollo per il vostro intervento? Noi andiamo in supporto ai vigili del fuoco, la segnalazione e l'autorizzazione ad operare a noi viene dalla sala operativa regionale, la sala operativa regionale in questo momento è costituita dalla componente regionale, la componente del volontariato, i vigili del fuoco, dunque c'è una sala operativa che coordina tutto quello che succede sul territorio abruzzese, loro ci autorizzano all'uscita e andiamo in supporto all'ente preposto che sono i vigili del fuoco. Vogliamo rinnovare anche l'appello alla cittadinanza, ai cittadini per evitare che si possano ripetere questi episodi. Avere sempre massima accortezza, soprattutto quando andiamo magari a fare qualche scampagnata fuori all'aperto e evitiamo di accendere i fuochi, anche perché ci sono delle ordinanze, è evitato di accendere i fuochi in prossimità dei boschi, manteniamo sempre una prudenza, se proprio lo accendiamo verifichiamo, accertiamoci che questo fuoco sia ben spento, perché il fuoco magari lo lasciamo, il giorno dopo con il vento può riprendere qualche braccio e rimane sotto e può provocare l'incendio, dunque la massima accortezza. La cosa importante invece è, nel caso avvistiamo una colonna di fumo o avvistiamo un incendio, un principio d'incendio, avvertiamo immediatamente il 115 Vigili del Fuoco oppure la sala operativa regionale al numero 800 86 1016. Inaugurata oggi a Montesilvano una nuova spiaggia accessibile anche ai disabili, si chiama Mare senza Barriere e ne saranno custodi alcune persone che ricevono il reddito di cittadinanza. Una spiaggia accessibile a tutti, unica in Italia. L'inaugurazione oggi a Montesilvano di Mare senza Barriere, una porzione della spiaggia libera attrezzata per consentire anche a chi è in carrozzina di godersi il mare in autonomia. Abbiamo realizzato un sogno, abbiamo lavorato sulle barriere culturali, le abbiamo sgretolate e lavorando sull'ambiente abbiamo reso una spiaggia completamente accessibile dove le persone con disabilità possono godere della spiaggia e del mare. Qui abbiamo tutti i comfort, abbiamo il gazebi, abbiamo l'ombra, abbiamo le palme, abbiamo le docce dedicate, bagni di lusso, parcheggi dedicati con i custodi. Senza questa spiaggia le persone con disabilità non potrebbero godere del mare e quindi è questo che abbiamo, ecco perché abbiamo abbattuto la diversità. Questa non è di certo la sola spiaggia abruzzese accessibile ai disabili, ma così organizzata rappresenta un unicum, comodi bagni, gazebo per l'ombra, una passerella fino alla riva e nove nuovi parcheggi per portatori di handicap lungo la riviera. I membri dello staff, percettori del reddito di cittadinanza, provvederanno a sanificare bagni e sedie e assisteranno ai visitatori per otto ore al giorno, da lunedì alla domenica fino al 10 di settembre. Montesilvano si propone come una meta turistica anche per i disabili, ha detto soddisfatto il sindaco De Martinis. Sono anni che Montesilvano è dotata di non soltanto una ma due spiagge accessibili, ma quest'anno abbiamo migliorato come programmato e come promesso in passato con questa spiaggia, rendendola unica a livello regionale e probabilmente anche a livello nazionale. Ci sono tutti gli ingredienti per poter essere felici e per poter dire che Montesilvano si accredita quale una delle spiagge e delle località più importanti della nazione e quindi si accredita come meta delle vacanze di chi ha affetto di disabilità o chi in famiglia appunto ha nel proprio nucleo un componente affetto di disabilità. Una borsa di studio per la miglior tesi di laurea magistrale sarà intitolata all'ex manager dell'Abrioni, Lucio Marco Tullio. Ad annunciarlo è il senatore del PD, Luciano D'Alfonso, il servizio di Stefano Recanati. Marco Tullio merita a memoria ricucire la piccola grande Italia e questo il titolo del convegno che si è tenuto presso la sala consigliare del comune di Pescara e dedicato a Lucio Marco Tullio, ex sindaco di penne e manager dell'Abrioni, scomparso a settembre dello scorso anno. L'iniziativa è stata promossa dalla scuola di Alta Sartoria, Fondazione Nazareno Fonticoli, presieduta dall'ex sindaco di penne Paolo Fornarola e ancora ad Europa prossima è officina del senatore Luciano D'Alfonso. Proprio il senatore del PD è stato il deus ex machina di questa iniziativa in ricordo di uno dei protagonisti dello sviluppo imprenditoriale dell'area Vessina e a cui sarà dedicato un premio di laurea magistrale per la miglior tesi in economia, scienze politiche e architettura. Noi abbiamo voluto coltivare il ritrovamento della memoria riguardante l'opera, il pensiero e la vita di Lucio Marco Tullio. Lui ha testimoniato un'idea giusta di ricchezza, di intrapresa economica segnata dalla responsabilità sociale, ha messo insieme in termini riusciti piccolo e grande il nostro appennino, la nostra montagna, l'autentico delle nostre terre alte con la funzione delle grandi città. Ha saputo coltivare anche un'idea giusta di impegno politico, di decisione pubblica. Per questo le giovani generazioni non devono confondere la sua persona, il suo cognome, la sua opera con il contrario che magari si vede adesso con i giudizi istantanei. Noi ci crediamo alla memoria come infrastruttura della vita collettiva. È la prima volta che partecipo e che parlo del mio amico Lucio Marco Tullio dopo la sua scomparsa. Ho vissuto con lui, mi sono onorato della sua amicizia e anche del suo affetto per la durata di 27 anni, nella seconda parte della sua vita iperattiva. Ho imparato molto da lui, è stato per me quasi un fratello maggiore. Devo dire che è stato un esempio di capacità lavorativa, di solidarietà, di affetto nei confronti anche delle persone più deboli alle quali ha sempre guardato con grande attenzione. Io credo che questa manifestazione non debba concludere il ricordo di Marco Tullio, ma debba aprire un discorso che poi sverrà affidata alla storia per l'importanza che questo personaggio ha avuto per la nostra comunità. Parte oggi a Palazzo De Maio a Chieti il Corralia Fest, curato dalla Fondazione Banco di Napoli per il restauro della ex chiesa Santa Maria della Tricalle. Vediamo. E' iniziata con la preview di questa mattina nello storico Palazzo De Maio di Chieti, sede della Fondazione Banco di Napoli, il primo appuntamento di Corralia, festival promosso e prodotto dalla cooperativa Mirare. Un inizio dedicato al ruolo positivo e propositivo che le fondazioni di origine bancaria hanno per lo sviluppo e la crescita del territorio dove operano. Come nel caso del finanziamento elargito dalla Fondazione Banco di Napoli tramite Art Bonus per la rigenerazione della ex chiesa di Santa Maria del Tricalle a Chieti. Corralia Fest è l'inizio di un percorso sperimentale dove una cooperativa di comunità arriva lì dove termina l'intervento pubblico privato della soprintendenza e della Fondazione Banco di Napoli per il recupero della chiesa medievale del Tricalle e parte con un programma di incontri sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione dei beni architettonici quale strumento per promuovere una nuova economia culturale e sociale a favore delle comunità di riferimento. E' un progetto importante che vede anche la sinergia con la soprintendenza di Pescarachieti? Assolutamente sì, è il primo progetto in Abruzzo che utilizza l'Art Bonus e noi ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso che possano seguire altri mecenati e filantropi che amano quelli che sono le perle di questa regione così come nel resto d'Italia, quindi speriamo che sia ad esempio a tanti altri. Questa sinergia ci ha consentito di fare fronte comune non solo per quanto riguarda la sostenibilità economica ma anche di incrociare poi la volontà del partner privato Mirare che sia candidato alla gestione di questo luogo e la gestione è fondamentale proprio per poter continuare anzi proporre una ripresa e una rinascita di vita, di attività a favore anche della comunità perché il nostro interesse è quello che il bene torni ad essere a disposizione della comunità. A Montorio Alvomano concerti, spettacoli e altri eventi con tanti artisti locali ma non solo. Vediamo allora il cartellone estivo del Borgo del Terramano. Ci sono nomi di livello nazionale, artisti importanti ma ci sono anche tanti artisti montoriesi ed è giusto così, ci sono tante associazioni montoriesi che partecipano a questa manifestazione la totalità e vuole essere un messaggio, un messaggio di rinascita per un comune, per anche le persone, abbiamo vissuto due anni chiusi in casa e credo che sia molto importante la socialità, poi l'aggregazione. Prima del concerto di Ron ci sarà l'opening di Casa di Lego, un bellissimo messaggio della Montorio è casa sua e un bellissimo messaggio anche tanti ragazzi che si esibiranno, poi ci saranno gli stadio, ci sarà Lino Guanciale, ci sarà Vincenzo Olivieri, ci sono tantissimi artisti che hanno sposato anche un progetto che è quello di rilancio di un territorio che pochi conoscono e credo che anche la definizione dei luoghi, quindi il lungo fiume dove il comune in questi mesi ha fatto una riqualificazione importante e ha speso delle risorse, la piazza, il borgo, ma non è solo il rilancio di Montorio, la definizione dell'iniziativa Gran Sasso Live, prima edizione Montorio al Vomano, la porta del parco, vuole essere un rilancio di tutto un territorio, non solo Montorio al Vomano, ma tutta l'area interna e dimostrare che possiamo avere un filo conduttore di valorizzazione dei borghi e quando arriveranno i cittadini, i turisti, pomeriggio potranno godere dei nostri negozi, dei nostri bar, dei nostri ristoranti, quindi il comune di Montorio fa un investimento importante di soldi pubblici, però noi crediamo che il ritorno economico di tutto il territorio sarà superiore al milione di Euro. Abbiamo voluto dedicare al teatro, sono spettacoli abbastanza importanti che stanno avendo successo in tutta Italia e li abbiamo portati anche qui. Io porto praticamente uno spettacolo che si chiama Antevirus, dove si parla un po' di questa vicenda pandemica, in chiave chiaramente ironica e comica, riflettendo anche su delle cose che ci sono capitate e poi Non è mai troppo Abruzzo, che è uno spettacolo molto bello dove io faccio da professore, è una lezione spettacolo sulle bellezze, la cultura, la storia, la geografia dell'Abruzzo e chiaramente la linguistica. La storia del Teramo Calcio raccontata dall'artista Marco Pace saranno esposte fino al prossimo 20 luglio in Via Palma, nel capoluogo aprutino, le gigantografie che ritraggono presidenti, giocatori, personaggi che hanno fatto la storia dei colori bianco-rossi e anche di questi una ragione di vita. I ritratti un tempo custoditi presso lo stadio Bonolis, con molta probabilità dopo la mostra troveranno spazio presso il Parco della Scienza a Teramo. Vediamo il servizio. La mia passione per il calcio è dovuta ad un fatto più che altro logistico, perché io sono nato a 10 metri dal vecchio comunale, il papà che mi portava a mano nella mano vicino a me e mi accostava la rete dello stadio, del campo, quindi vedevo i calciatori da vicino e era un'emozione fortissima, questa emozione l'ho trascinata negli anni e quindi da curvaiolo diciamo sono diventato un po' più tranquillo, quindi distinti, mai tribuna, sempre una curva o distinti e poi nel corso degli anni dopo la probabilità, anche dopo l'essere diventato un po' tra virgolette artista ho aiutato, ho collaborato anche con le coreografie in curva est e per questo ho conosciuto tanti amici. Questa è una mostra che è partita già una quindicina di anni fa ed era collocata all'interno dello stadio Bonolis, nei corridoi degli spogliatori del Bonolis. Abbiamo deciso insieme di prendere dei personaggi più o meno storici che hanno vissuto la stadio della termocalcio. Qualcuno poi negli anni si è aggiunto, per cui adesso sono diventate 20-21 opere, molti erroneamente le chiamano gigantografie, ma in realtà sono pittografie, c'è una base fotografica sulla tela, leggerissima e poi c'è l'intervento pittorico gestuale alla maniera pop, io sono un artista pop, mi ritengo perlomeno un pop artista, per cui con colori molto forti, anche perché le fotografie stampate su canvas sono in bianco e nero molto leggero, il colore è da vita, quindi potrebbe sembrare se no un cimitero, un minareto dove questi personaggi vivono, invece col colore, il colore è da vita e quindi sono vivi, sono eroi viventi, sono mitici e rimangono una storia immortale. E questa notizia ci porta alla pagina dello sport, parliamo ancora di calcio, parte oggi la nuova stagione del Pescara, i biancazzurri in queste ore si stanno radunando all'hotel Ecche, si alleneranno per due giorni al Poggio, prima di partire giovedì per Palena, tanti giocatori dello scorso anno che sono ancora sotto contratto al servizio. Prende oggi il via la nuova stagione dei biancazzurri che si raduneranno al Delfino Training Center per iniziare la preparazione dopo aver effettuato le visite mediche. Giovedì ci sarà la partenza per il ritiro di Palena dove la squadra resterà fino al prossimo 28 luglio. Sono una trentina i giocatori convocati dal tecnico Gaetano Auteri presso il quartier generale dell'Otelec di Marina di Città Sant'Angelo, fra questi i portieri Vincenzo Fiorillo, Nicolò Radaelli e Alessandro Sorrentino, difensori Gennaro Scognamiglio, Edoardo Masciangelo, Mardo Kenzita, Mirko Drudi, Frederic Sorensen, Edgar Elizalde, Gianluca Longobardi, Alessandro Celli, i centrocampisti Ledian Memusciai, Mirko Valdifiori, Massimiliano Busellato, Luca Crecco, Amadou Di Ambo, Nicolas Mercado, Marco D'Aloia, Simone Madonna, gli attaccanti Cristian Galano, Cristian Bunino, Michele De Marchi, Andrea Di Grazia, Gennaro Borrelli, Marco Chiarella, Vladislav Blanuta e Milos Bosic. Sulle fronte mercato la società è molto attiva nelle prossime ore, dovranno essere concluse delle trattative in entrata. Per quanto riguarda il mercato della formazione bianca-azzurra, Zeppella e Ilianes dovrebbero diventare giocatori del Pescara nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece il settore di difesa, piace l'ex giocatore del Modena, Berzotti. Importante evento sportivo a Chieti, il capoluogo tetino ospiterà i campionati europei under 19 femminili di Pallamano. Oggi la presentazione dell'evento che si terrà dal 13 al 19 di luglio. Chieti si conferma la casa della Pallamano italiana, i campionati under 19 femminili di handball si terranno proprio nel capoluogo teatino. Assessore, un grande riconoscimento per quella che è riconosciuta ormai come la casa dell'handball italiano. Assolutamente, come amministrazione insieme al nostro sindaco abbiamo fortemente voluto questa sinergia che ha dato vita, come ben ricordava, prima alla nascita del centro tecnico federale della Pallamano presso la nostra struttura del Palazzo Santa Filomena e poi attraverso una costante interlocuzione che portiamo avanti con la federazione stessa e con il Presidente Loria affinché questo impianto possa veramente diventare teatro di tanti appuntamenti di grande rilevanza dell'handball nazionale ed internazionale e questo primo importante evento ne la conferma. i campionati europei under 19 di Pallamano femminile che si terranno dal 13 al 18 di luglio e con le riaperture, lo avevamo detto, si potrà concretizzare un profondo obiettivo che portiamo avanti, ossia far sì che il marketing sportivo sia qualcosa di molto importante per la nostra città perché attraverso lo sport si attrae gente a visitare le nostre chiedi perché attraverso i risultati che la nostra città in quest'anno peraltro ha conseguito si riesce veramente a creare indotto. Bene, con la Pallamano ci sono appuntamenti come dicevo di rilevanza nazionale ed internazionale e dunque tutti a tifare Italia anche in questa occasione. Questa era la nostra ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto potrete ritrovarli su Youtube e sul sito tv6.it. L'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.